Il cammino a gas è diventato negli anni una delle soluzioni più gettonate per chi cerca installazioni di design e di grande impatto, senza rinunciare all'atmosfera di una fiamma viva e brillante. Con tecnologie sempre più avanzate e una praticità d'uso unica nel suo genere, i camminetti a gas sono la soluzione ideale per chi vuole godere di un calore naturale nel comfort più totale. Le funzionalità e i vantaggi sono molti, niente legna o pellet da dover acquistare o stoccare, accensione e spegnimento rapidi, controllo di fiamma e di temperatura con telecomando o con una pratica applicazione su smartphone o tablet. Questi prodotti si collegano direttamente alla rete del gas, quindi sono senza bombola e garantiscono il massimo della sicurezza. Inoltre hanno peso e dimensioni ridotte per un ventaglio di soluzioni davvero vasto e un'installazione semplice e veloce, che non comporta particolari interventi strutturali. Poiché la combustione non produce cenere, questi apparecchi sono anche quelli più attenti alla sostenibilità ambientale, in quanto richiedono una pulizia meno frequente e una manutenzione più facile per il tecnico abilitato. Proprio per la semplicità di utilizzo e l'emozionalità di un fuoco sempre a portata di mano, scegliere un cammino a gas è una soluzione molto diffusa, non solo in ambito domestico, ma anche per installazioni in hotel, ristoranti, uffici, esercizi commerciali o strutture all'aperto come gazebo, portici o terrazze. Ad oggi i principali marchi presenti nel mercato offrono prodotti con uno o due bruciatori, che possono essere gestiti singolarmente per regolare la fiamma e la temperatura dell'ambiente. Con Element4, celebre produttore olandese di livello internazionale, le soluzioni per l'utente sono oggi sempre più ampie. I dispositivi possono essere da 1, 2, 3, 5 bruciatori con soluzioni frontali, angolari o bifaciali, oppure con 3 o 4 lati vetrati, oltre ad una gamma di misure davvero unica, con larghezza da 50 cm fino a 240 cm, anche con versioni a sviluppo verticale. Il focolare, composto da ciottoli o ceppi ceramici che cambiano colore in base all'intensità di fiamma, offre uno spettacolo straordinario. Sistema ermetico a flusso bilanciato, algoritmi per la riduzione del consumo di gas fino al 40% e fiamme realistiche anche ad andatura rallentata, sono ulteriori punti di forza dei cammini a gas Element4. Se vuoi saperne di più e scoprire tutte le caratteristiche di questi prodotti, visita il sito www.zetalinea.com oppure contattaci per avere tutte le informazioni che cerchi. www.zetalinea.com